E bello a tutti e ben trovati in questo nuovo video, io sono il vostro Mr. Vistecca Ed oggi sono i miei, ci troviamo qua su Fortnite, Fortnite Day Questo ragazzi dovrebbe essere il quarto episodio di oggi E i primi 3 che avete visto erano tutti diciamo già registrati Questo però ci tengo a farlo adesso ragazzi, andremo a fare la sfida tra cecchini 2.0 Novità un po' forse inaspettata dell'aggiornamento 3.4 di Fortnite Modalità appunto solo cecchini E nel frattempo ragazzi, mentre ci facciamo sta partita Vi dico anche un pochino tutte le novità che sono state aggiunte con appunto la nuova patch 3.4 Allora, partiamo appunto col dire che è stata aggiunta questa nuova modalità Sfida tra cecchini che era già stata inserita su Fortnite tipo un paio di mesi fa A inizio anno, verso Natale, insomma quel periodo lì se non mi ricordo male E a differenza però di questa volta, innanzitutto non c'erano né la balestra né il fucile da caccia Che sono state tutte aggiunte dopo come armi E c'era la Desert Eagle però la Revolver non credo Però la Magno, un Desert Eagle, chiamatela come la volete ragazzi Quella ovviamente c'era Invece stavolta sono soltanto cecchini E in più basterà mandare a terra un giocatore a squadra intendo Perché in singolo non c'è l'atterraggio ma intendo a squadra E basterà mandarlo a terra per ucciderlo Cioè nel senso non ci sarà la possibilità di rianimare i propri compagni di squadra Verranno subito shottati Poi è stato aggiunto il nuovo lanciarazzi Il nuovo missile guidato mi sembra si chiami ragazzi E pare essere un'arma veramente devastante Sia epico che leggendario Quindi sia viola che oro Boh non lo so scendiamo su pinnacoli Il danno è pazzesco ragazzi Come tutti gli RPG Cioè Se preso per bene ti shotta In sostanza E Piuttosto veloce Ragazzi è un RPG a differenza che semplicemente lo puoi guidare te E' un'arma pazzescamente devastante Che devasta tutto Niente da aggiungere In più sono cambiate anche le rarità Di alcune armi Nel senso che Il fucile a pompa tattico Quello diciamo Tra virgolettone A raffica E Se non ci abbiamo culo Con la balestra Questo ce lo giochiamo Beccato Ci ha troncato lui E vabbè Ne facciamo un'altra Stavamo dicendo ragazzi Che i fucile a pompa Quindi quello a colpo singolo E quello Tattico Quindi diciamo a raffica Non quello nuovo Sono stati cambiati Perché Quello tattico Hanno rimosso la versione Viola Quindi la versione Epica E L'hanno fatto diventare Solamente Cioè solamente In sostanza A posto di quella viola Ci hanno messo quello comune Quello Bianco Grigio Come lo volete chiamare Quindi adesso esiste Nelle varianti appunto Comune Non comune Che sarebbe la verde E rara Che sarebbe la blu Mentre il pompa A colpo singolo Hanno rimosso La versione comune Quindi la versione grigia E L'hanno fatto soltanto Verde Quindi non comune E raro Novità Quindi L'hanno aggiunto Blu Però La cosa divertente È che E qui non si capisce Perché abbiamo fatto sta cosa Non cambiano I valori Cioè come hanno detto Loro sul sito In sostanza Da quello che si legge Praticamente Per esempio Prendendo il fucile A colpo singolo Il fucile Comune Adesso Cioè il fucile verde Adesso ha le statistiche Di quello comune E quello blu Ha le statistiche Di quello verde Mentre Per il tattico Uguale Hanno scalato tutto di uno E non si capisce Ragazzi Perché abbiano fatto sta cosa Perché Non ha un fottutissimo senso Ma veramente Non ha Senso Hanno aggiunto Come sempre Le nove sfide Della settimana Vabbè Quella ragazzi Come tutti i giovedì E Torniamo su pinnauli Perché ormai abbiamo Un conto in sospeso E a parte le nove sfide Cos'hanno Ah hanno cambiato la mappa Ragazzi Perché hanno aggiunto Lo zoom Come potete vedere qua E Una cosa che secondo me Non serve veramente A niente Perché lo zoom Non capisco Il significato Cioè L'utilizzo Non c'è Per segnare Sulla mappa Invece con R2 E L2 Sulla play Parlo Adesso si fa con R1 L1 Perché appunto Con L2 E R2 C'è lo zoom Ragazzi Questa è una cosa Veramente inutile E hanno rimpicciolito I nomi Nella minimappa A destra Hanno rimpicciolito La grandezza appunto Dei nomi Che anche questa è una cosa Che secondo me Non ha un fottuto senso Però Ok Va bene E talmente bene Che siamo morti Se non ci vediamo Di corsa Ok Ci è andata forse bene Ok Ehi Questo mi serve Ok Io raga Non sono proprio Un fenomeno Perché c'è No Le trappole no Però Non hanno senso Secondo me In sfida tra cecchini Comunque va bene Io non sono proprio Un fenomeno Con il cecchino Ve lo dico di già Lo saprete Però Diciamo che me la cavo Ragazzi Ogni tanto Ogni tanto Mi esce lo sniping Che c'è dentro di me Però È raro Ok Ok Doppia balestra Mi piace È una tattica Importante Secondo me Dai che vedo Quindi Facciamo così Queste prendiamole tutta la vita Doppia balestra Ragazzi Teniamocela Perché Potrebbe essere La svolta Che Potenzialmente La balestra Potrebbe essere Tipo il fucile d'assalto In questa modalità Bene C'è gente Spara all'inferino Tirando delle botte Disumane C'è la cassa Vi perché non l'hanno aperta Eh Prova Uh Eh cacchio Il buon ballerino Però ci stava Ma che saprei Ma noi siamo più sportivi E ci buttiamo All'arrembaggio Vediamo Ho andato sto scarso Raga Madonna Ho andato sto scarso Madonna Ho andato sto scarso Bang Ci si è suicidati Ragazzi Ma abbiamo fatto Una kill Bella Quanto sto scarso Vabbò raga Questo è semplicemente Un video di aggiornamento Sapete Quando parlo Non sono bravo a giocare E Niente Vi lascio Agli altri video Del Fortnite Day E buona Ah Tra parentesi Le nuove sfide Sono queste Ossia 500 di danni Con le mitragliette Cerca forzieri Suacri anarchici Posizione un falò Raggiunge la sommità Di Diverse cibi di montagna Questa ragazzi È facile Perché Quando sarete Sulle montagne Vedete tipo Uno standard Una banderola Una bandiera Che Chiamatela come volete Che tipo Si illumina E Dovrete andare lì Poi Circa tra un ponte di metallo Tre manifesti E un bus distrutto Ancora non ho ben capito Dove sia ragazzi Però È in zona Condotti confusi Il ponte È quello là Ed è in quella zona lì Il bus distrutto Si intende Quello Che ha puntato Sulla montagna E i tre manifesti Sono tre cartelloni Pubblicitari Che si trovano Diciamo appunto Tra il ponte E Fatal Fils Land Dell'età Insomma Poi abbiamo Limizioni con armi esplosive Facile ragazzi Basta Tirare due botte Con l'RPG È già fatto tutto E Elimina nemici In corso commercio Quindi Facili ragazzi Sono sfide Tranquille